leggiamo insieme le due vignette nella prima cesare afferma aleam ieci nella seconda alea iacta est nelle due vignette compaiono due voci verbali al perfetto la prima ieci è il perfetto attivo del verbo riportato sopra che significa gettare iacta est invece è la forma passiva del perfetto alea mieci significa ho gettato il dado forma attiva dell'indicativo perfetto alea iacta est è invece la forma passiva ed è una forma perifrastica cioè composta soffermiamoci ancora su due frasi discipoli ad scolam veneront gli allievi arrivarono a scuola julia a magistro rogata est giulia è stata interrogata dal maestro negli esempi abbiamo due forme verbali al perfetto veneront corrisponde all'italiano arrivarono cioè l'indicativo passato remoto ed è una terza persona plurale di forma attiva del verbo venio venire rogata est corrisponde all'italiano è stata interrogata cioè l'indicativo passato prossimo è una terza persona singolare di forma passiva del verbo rogo rogare prima coniugazione come si forma l'indicativo perfetto passivo osserviamo ancora un esempio amato sum ab omnibus sono stato amato da tutti l'indicativo perfetto passivo amato sum del verbo amo amare è una forma perifrastica perifrastica cioè composta da due elementi il participio perfetto amatus più l'indicativo presente del verbo sum come si forma il participio perfetto che è fondamentale per costruire la forma passiva del perfetto come al solito faccio riferimento al paradigma amo amas amavi amatum amare qui abbiamo il paradigma di un verbo della prima coniugazione quale delle voci verbali del paradigma utilizzerò per formare il participio perfetto il supino prendo il supino amatum da amatum stacco la terminazione um del supino e ottengo amat il tema del supino a questo tema aggiungo le terminazioni degli aggettivi della prima classe quindi us a um e avrò amatus amata amatum come si traduce amato amata amato quindi è molto semplice formare il participio perfetto prendo il tema del supino stacco la terminazione um e aggiungo le terminazioni degli aggettivi della prima classe us a um per il singolare e i e a per il plurale vediamo per esempio cosa succede nel caso del verbo della prima coniugazione amo amare prendo amatum stacco la desinenza um amat e a questa aggiungo le terminazioni degli aggettivi della prima classe quindi amatus amata amatum per la per il singolare amati amate amata per il plurale procedono nello stesso modo per gli altri verbi delle coniugazioni quindi compresa anche quella mista quindi visus visavisum e visi visavisa lectus lecta lectum lecti lecte lecta auditus audita auditum auditi audite audita e infine coniugazione mista capio capere è importante evidenziare come il participio perfetto si declina come un aggettivo della prima classe in us a um e concorda con il nome a cui è riferito in genere numero e caso vediamo l'esempio vir amatus est l'uomo fu amato amatus us concorda con vir che è appunto singolare maschile mulier amata est la donna è stata amata o fu amata è la stessa cosa perché appunto il perfetto corrisponde sia al passato remoto che al passato prossimo amata come vediamo alla desinenza a del nominativo perché concorda con mulier la donna figli amati sunt i figli furono amati anche in questo caso il participio perfetto amati concorda con fili perché è nominativo plurale maschile dona amata sunt i doni sono stati amati ha la stessa corrispondenza anche in questo caso amata che è il participio perfetto declinato al nominativo plurale del neutro concorda con dona che è un nominativo neutro plurale e la stessa cosa possiamo dire della famosa frase di cesare alea iacta est quel iacta che è il participio perfetto di iaccio iacis iacci iactum iacere concorda con alea 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 che è il dado è il dado